Erogazione fondi per il doppio cratere. Appello dei sindaci in un recente incontro. Balletto di cifre sulle spese natalizie. Chiarimenti del portavoce del sindaco di Avezzano. Viaggio premio per studenti a Strasburgo. Hanno partecipato ad un concorso per il movimento della vita. Una mostra per ricordare Bruno Trentin. Sarà inaugurata venerdì a Sulmona. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Bisogna subito far arrivare ai piccoli operatori economici del territorio abruzzese i 5.000 euro previsti dal decreto terremoto e già erogati nelle altre regioni colpite dal sisma 2016-2017. È l'appello lanciato dal sindaco di Monteriale, Massimiliano Giorgi, nel corso dell'incontro che ha organizzato con gli amministratori del cosiddetto doppio cratere, ovvero i comuni che in Abruzzo sono stati colpiti sia dal sisma del 2009 che da quelli del 2016-2017. Nella riunione specifica sono emersi problemi importanti su cui stiamo lavorando tutti insieme. Ho illustrato le tante misure positive inserite nel decreto fiscale, molte delle quali concordate proprio con i sindaci. Cose positive anche nella legge di bilancio, di cui ora stiamo seguendo l'approvazione definitiva. È necessario però lo sforzo di tutti per sostenere la tenuta delle amministrazioni e del tessuto economico e sociale di tutta la zona, che è stata doppiamente colpita dagli eventi sismici. L'ho reso noto la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, responsabile del terremoto e ricostruzione dell'esecutivo DEM. Il primo problema, spiega, riguarda la tenuta del tessuto economico-sociale, perché alle aziende non è ancora arrivato il contributo di una tantum di 5.000 euro previsto dal decreto del terremoto. Su questo mi appello alla Regione. Le risorse devono arrivare subito, anche perché dal 1 gennaio si tornano a pagare le tasse. Ho parlato già con il Presidente e Vice Commissario D'Alfonso, con il Vice Lolli e il Consigliere Pietrucci. Tutti si sono impegnati ad una rapida soluzione del problema. La seconda questione grave riguarda i piccoli comuni, come Campotosto, privi del personale in grado di intervenire sia sull'emergenza sismica che relativa al maltempo. Per questo mi appello al Vice Commissario D'Alfonso. Si trovi subito una soluzione. Daniele Vaccarino, Presidente nazionale della CNA, commenta le recenti decisioni del Governo centrale. Tra l'altro evidenzia. Siamo delusi e arrabbiati. Questa legge di bilancio dimentica gli artigiani e le piccole imprese. Invece, artigiani e piccole imprese rappresentano una parte fondamentale del Paese, già gravata pesantemente da una delle più pressioni fiscali al mondo. La legge di bilancio, infatti, pur impedendo il previsto aumento dell'IVA e confermando il complesso delle incentivazioni sugli investimenti e lavoro collegate a impresa 4.0, non persegue proprio l'ineludibile processo di riduzione della pressione fiscale su artigiani e piccole imprese. Rimangono disattese le nostre richieste in materia di deducibilità dell'IMO sugli immobili strumentali, di esecuzione dell'IRAP per le attività di minore dimensione, di ripristino dell'aliquota al 65% per gli interventi di efficacimento energetico. Per di più, si fa retromarcia su importanti provvedimenti come l'imposta su redditi di impresa e regime per cassa con la previsione del riporto delle perdite, già indotti opportunamente lo scorso anno. La massiccia campagna partita oggi è solo la nostra prima iniziativa. Il portavoce del sindaco di Avezzano, Roberto Alfatti Appetiti, interviene sull'attuale problema delle spese natalizie da parte dell'amministrazione comunale. In una nota, tra l'altro, evidenzia rammarico per l'approssimazione espressante dei giudizi e del balletto delle cifre del tutto fuorviante relativamente alle iniziative che l'amministrazione comunale ha deliberato per le prossime festività. La Giunta di Angelis ha stanziato con un'unica delibera 58.696 euro, somma comprensiva per più eventi. Una rassegna musicale che si terrà presso la sala dell'ex Montessori, l'organizzazione di una mostra personale di Colantoni, artista marzicano di fama mondiale con i costi della stampa, del catalogo e dell'assicurazione delle opere. Il noleggio di una giostra simile a quelle antiche di cavalli Belle Epoque, gestita dalla Proloquo di Avezzano. L'installazione di luminarie natalizie, dalla forte valenza innovativa e con un ricercato significato religioso. Si tratta di un vero e proprio progetto di luci d'artista, ideato e curato a titolo gratuito dall'architetto Alberto Cicerone, professionista avezzanese molto apprezzato dal Vaticano. La precedente amministrazione per l'illuminare aveva speso, con ben tre delibere, una somma superiore a 70.000 euro. L'auspicio, tuttavia, dovrebbe essere comune, rendere l'Avezzano sempre più bella e accogliente, fornendo alle famiglie momenti di incontro e intrattenimento, possibilmente in linea con quello dello spirito del Natale, che non dovrebbe essere inquinato da polemiche sterili e strumentali. Nel contesto delle polemiche sulle luminarie ad Avezzano, riteniamo utile ed opportuno dare spazio all'intervento proposto da Donaldo Antonelli, che con la riconosciuta capacità critica espone queste osservazioni. Che dire di fronte alla degradante polemica sulle luminarie natalizie e il loro costo? Polemica degradante sia per chi la suscita come pure per chi per la città che la subisce. E siccome è da giorni che questo scambio di accuse e disdette si trascina, viene da chiedersi se la città non abbia altri problemi più importanti sui quali converge, le attenzioni e le preoccupazioni. La sempre più diffusa disoccupazione, la criptodelinquenza di strada, un mercato autocefalo che sta desertificando il centro e uccidendo i piccoli esercizi e molti altri piccoli problemi che messi insieme fanno il problema. Oltre a ciò, infastidisce che lo schieramento barricadero tra i pro e contro dell'attuale amministrazione, come se il bene stesse tutto da una parte e il male tutto dall'altra. Non è mia intenzione fare l'equilibrista, ma resto convinto, e non da oggi, che le critiche di una certa opposizione sono sospette come la durazione di certi amici. E mi chiedo se sia proprio tanto difficile riconoscere ogni tanto le scelte buone della controparte e criticare le cose sbagliate di casa propria. Ho l'impressione che si è in troppi in questa nostra città a sentirsi fan di prima parte e più che cittadini. Viaggio premio alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo per ragazzi marzicani, vincitori del concorso promosso dal Movimento per la Vita, accompagnati da Don Antonio Allegritti. Per la precisione, sono quattro gli studenti della diocesi di Avezzano, vincitori del trentesimo concorso internazionale dedicato ad Alessio Solinas, dal tema C'è vita in Europa? Sulle orme del nostro futuro. Aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori marzicane che hanno partecipato con la stesura di un tema insieme ai ragazzi di tutta Italia. Il Movimento per la Vita di Avezzano, guidato dalla Presidente Maria Rosaria Savina, ha raccolto ed esaminato più di 300 temi. I vincitori Giulia Aratari, classe terza D del liceo scientifico Poglione di Avezzano, Agnese Di Nicola, classe quarta A, Istituto Tecnico Industriale Statale Majorana di Avezzano, Eva Paone, classe quarta A, Istituto Tecnico Economico del Turismo Argoli di Taiacozzo, Lorenzo Contarato, classe terza A, Istituto Tecnico Industriale Majorana di Avezzano. I ragazzi hanno ricevuto come premio il viaggio a Strasburgo, presso il Parlamento europeo, dal 12 al 16 dicembre. I giovani parteciperanno alle sedute del Parlamento europeo e saranno invitati a fare delle proposte. Da 30 anni il Movimento per la vita italiano propone il concorso europeo nelle scuole medie e superiori e nelle università di tutta Italia, un'iniziativa accompagnata da importanti patrocini e dal lavoro di numerosi volontari. La partecipazione di circa un milione di studenti, di cui oltre 7.000 giovani, hanno partecipato ai seminari conclusivi a Strasburgo, presso le istituzioni europee, e la testimonianza di molti giovani concorrenti, oggi adulti, prova l'efficacia di questa iniziativa. Il Movimento per la vita di Avezzano fa parte di una federazione di oltre 600 movimenti locali, centri e servizi di aiuto alla vita e casi di accoglienza attualmente esistenti in Italia. Si propone di muovere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell'accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito e non ancora nato. La polemica sui costi e la composizione dell'ufficio di diretta dipendenza del sindaco De Angelis si fa sempre più stucchevole, anche perché appare poca cosa con riferimento al ben più complesso riassetto organizzativo dell'ente. È quanto si legge in un comunicato del capogruppo di Avezzano, Rinasce, donato a Ratari. Specifica che l'Aggiunta Comunale, nella sua seduta del 2 agosto 2017, infatti, nel deliberare la ridefinizione della struttura dell'ente, ha ridotto significativamente il numero dei dirigenti, che è passato da 9 a 7 unità, con un ingente risparmio della spesa. Nello specifico, il taglio della figura del dirigente e dello staff del sindaco, oltre a misure ulteriori di razionalizzazione degli uffici, ha comportato anche un risparmio secco del 50% dei costi degli uffici di diretta dipendenza del primo cittadino. Se poi confrontiamo i costi dello staff del primo periodo di gestione De Angelis con l'analogo periodo dell'amministrazione di Pangrazio, i dati sono inequivocabili. La spesa per lo staff di De Angelis è di 31 mila euro, mentre la spesa per lo staff di Pangrazio era di ben 67 mila euro. Di Pangrazio spendeva per lo staff più del doppio dell'attuale sindaco. Arrampicarsi sugli specchi è un'impresa disperata. Puntare il dito sulla recente assunzione, peraltro part-time, di un nuovo collaboratore nel gabinetto del sindaco, Alessandro Barbonetti, non è neanche lontanamente paragonabile alla presenza, sotto la precedente gestione, di un dirigente assunto senza concorso come Sergio Natalia. Su tali fatti è stato presentato in data 8 novembre 2016 un esposto alla Procura della Repubblica di Avezzano. La Giunta Comunale di Cerchio, guidata dal sindaco Gianfranco Tedeschi, ha approvato due progetti di particolare importanza per il Paese. Si tratta di richieste formulate al Ministero dello Sport e al CONI per accedere a fondi riservati al programma Sport in Periferia. Nel progetto, ambizioso e fortemente voluto dall'amministrazione comunale, è prevista la realizzazione del fondo sintetico per lo stadio comunale Giuseppe Tofani per un importo complessivo di 300 mila euro e una tendostruttura all'impianto di Orto Sereno per un importo complessivo di euro 150 mila. La richiesta complessiva è di euro 400 mila. Siamo impegnati, ha commentato il primo cittadino Gianfranco Tedeschi, a completare il municipio, il nuovo edificio scolastico, anche gli impianti sportivi per dare una risposta concreta ai servizi ricreativi e sportivi per i nostri ragazzi e per le future generazioni. Un impegno, conclude Tedeschi, preso in campagna elettorale con i nostri concittadini che stiamo onorando al meglio. Mercoledì 13 dicembre, alle ore 11, presso l'auditorium del Castello Piccolomini di Celano, verranno presentate due significative novità, il logo del museo e la nuova sezione didattica dedicata ai bambini. Entrambe sono realizzate per il Polo Museale dell'Abruzzo, dallo studio di Moby Dick con fondi del Ministero dei Beni Ambientali. Partecipano all'evento in particolar modo dedicato alle scuole primarie e medie Lucia Arbace, direttore del Polo Museale, ed Eliana Morgante, assessore alla cultura di Celano. A seguire è prevista la visita guidata dall'artista alla mostra Archetipe Persone, realizzata in occasione di Castellaria, dintesi con il contributo del Comune di Celano e ora arricchita di nuove opere. Alle ore 14 sarà possibile partecipare ai laboratori sul riciclo del cartone a cura di Caetano De Crecchio. Sempre a Celano è in programma un'altra iniziativa. Dopo il successo riscosso presso il Museo archeologico nazionale Villa Freggeri a Chieti, Lucia Arbace annuncia il gradito ritorno delle maschere di Caetano De Crecchio a Celano, sotto le volte tardogotiche delle sale a pianoterra. La doppia proposta espositiva, destinata ad un pubblico di adulti, ma anche in grado di suscitare l'entusiasmo dei bambini, si avvantaggerà di laboratori a cura dell'artista. Dieci anni fa moriva Bruno Trentin, maestro di libertà che ha segnato la nostra storia e quella del nostro paese. Il 15 dicembre a Sulmona alle ore 18, presso la sede in Vico del Vecchio 5, la CGL provinciale lo ricorda attraverso la mostra Bruno Trentin dieci anni dopo. A cura dell'archivio storico della CGL nazionale, una biografia per documenti e immagini capaci di far rivivere i principali snodi della storia di Bruno Trentin e della CGL nell'Italia, repubblicana e nell'Europa del secondo dopoguerra. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2018. La data dell'apertura non è casuale. Il 14 dicembre 1994, alla presenza di Bruno Trentin, veniva inaugurata infatti la sede della CGL di Sulmona, una delle più belle sedi in Italia. Nel ricordo si intende far rivivere non solo quella storia, ma ripuntualizzare la presenza, la proposta e l'influenza economica, sociale e politica del sindacato in un territorio difficile, nel quale una sede sindacale diventa, a partire dalla sua ristrutturazione, terminata nel 2015, anche un punto di riferimento e di aggregazione per la città. All'inaugurazione interverranno Ilaria Romeo, responsabile dell'archivio storico della CGL nazionale, Sandro Del Fattore, segretario generale CGL Abruzzo, Umberto Trasatti, segretario generale della Camera del Lavoro provinciale, Paolo Perna, responsabile del centro di documentazione CGL L'Aquila ed Emanuele Verrocchi, presidente del direttivo CGL provinciale. Un format teatrale da applicare su tutti i teatri d'Abruzzo, anche se per l'occasione si adatterà alle strutture architettoniche del Teatro dei Marzi di Avezzano, con l'obiettivo di valorizzare la letteratura del Novecento e i luoghi fisici della struttura ospitante. E' questo lo spirito con cui torna dal 13 al 15 dicembre alle 21, il 16 alle 18, viaggio nel teatro della compagnia teatrale Il Lanciavicchio. Sei tappe nel teatro del Novecento con De Filippo, Pirandello, Brecht, Gogol, D'Annunzio e D'Use. Uno spettacolo itinerante all'interno degli ambienti del teatro, tra le scene i camerini e le scale interne. Spazi riservati agli addetti ai lavori per incontrare personaggi perduti tra il reale e l'immaginario. Il viaggio nei luoghi del teatro si sviluppa grazie all'incontro con maestri e protagonisti del Teatro Novecento e le loro opere. Un viaggio sotto molteplici aspetti, viaggio nei luoghi fisici e in viaggio lungo la memoria letteraria e artistica. Una formula innovativa di vivere il teatro. È assolutamente necessario prenotare, fanno sapere Stefania Evandro, ideazione e Antonio Silvanni, regia, perché il viaggio nel teatro è uno spettacolo destinato a gruppi di 50 spettatori per volta. Il teatro Lanciavicchio è compagnia di produzione teatrale e con pagine artistica esperta nella creazione originale di opere innovative. Calcio eccellenza. Il paterno non è andato oltre il pareggio 2-2 nella gara interna contro il quotato Martinsicuro. Si è trattato di un'occasione persa per avvicinare la vetta della classifica. Vediamo il servizio della nostra redazione sportiva. Scontro al vertice fra due squadre dal grande presente e dal futuro pieno di speranza. Un Martinsicuro in grandissima forma scende al comunale di Canisso per cercare di vendere cara la pelle contro un paterno incerottato, privo com'è di diversi titolari di peso. Su tutti, forse il suo centrale difensivo principe, cioè di Stefano, oltre che di Cabasele, fermato dal giudice sportivo, e Albertazzi, lungo de gente, sulla via del recupero ma non ancora pronto. E il via è problematico proprio per i locali che prestano il fianco alle bocche da fuoco bianco-azzurre, soprattutto con una fase difensiva davvero approssimativa. E così già al terzo gli ospiti impensieriscono Cattafesta, con Maio al tiro franco preciso e potente che il portiere paternese manda in angolo sugli sviluppi del quale però una spizzata di cucco trae in inganno in un sol colpo due giocatori marzicani. Gli abboni tocca, Cattafesta fa la frittata e il Martinsicuro si porta avanti di uno. Fatica a trovare il bandolo della matassa durante il primo tempo un paterno raggelato dal freddo polare, dalla neve e dal repentino svantaggio e così i ragazzi di Fabio ci provano di nuovo su punizione al 23esimo ma Cattafesta smanaccia evitando guai peggiori per i suoi. 26esimo, recrimina Maio per questa rete annullata dal direttore di gara a causa di un fuorigioco e peraltro sembra esserci tutto. 40esimo, tracce paternesi finalmente con Franchi che pesca Baraldi pericoloso alla conclusione deviata in angolo. 42esimo, provano ancora gli ospiti con Bellini dalla distanza ma l'estremo di casa disinesca in due tempi e con qualche affanno di troppo. E noi passiamo alla ripresa che parte con gli uomini di Torti che hanno ben altro piglio e già al secondo si propongono l'esperto Giglio alla deviazione a lato a due passi dalla porta. La rete è nell'aria e arriva al sesto quando Di Giovanni cannoneggia dal limite e pesca l'angoletto buono per raddrizzare un match ostico e volge al bello appena 5 minuti più tardi quando Baraldi è svelto nel servire della penna che fa partire un diagonale che termina la sua corsa all'angoletto opposto di quello baciato dalla traiettoria del Di Giovanni di cui sopra. Il risultato è comunque positivissimo, il paterno può gioire per il momentaneo 2-1. Minuti seguenti che vedono una reazione abbozzata dal Martinsicuro con questa inzuccata di Bellini al 18esimo che trova una deviazione provvidenziale della difesa locale. Nero-Azzurri in palla di nuovo pericolosi al 25esimo quando Giglio si avvita che è una meraviglia ma l'estremo ospite è attento e salva la propria porta. Match in pugno per i marsicani o almeno così sembra perché al 31esimo cattafesta esce male lasciando la porta sguarnita e affare Arachiri è proprio un componente dello scacchiere paternese. Fuoco amico da parte di Miocchi, neo entrato ed estremamente sfortunato in un tocco malandrino che risulta letale per l'11 nero-azzurro che, incassato il 2-2, non si ripropone più in fase d'attacco sino al triplice fischio che certifica un pari di livello ma che comunque lascia rimpianti da ambo le parti. Da una partita con Mr. Torti, allora a un certo punto sembrava fatta? Eh sì, perché abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo preso questo gol a fretta e un autogol di Iaboni tra l'altro. E poi ho scombussolato i piani, però poi piano piano siamo risaliti, il secondo tempo abbiamo fatto secondo me un ottimo secondo tempo dove abbiamo messo la loro squadra lì. Siamo riusciti a ribattare la situazione, poi abbiamo fatto quest'altro errore su una punizione altra autogol. Poi sono gli episodi che ti fanno vincere o perdere la partita, però ripeto, il secondo tempo la squadra ha fatto un'ottima partita, abbiamo cercato di vincere la partita. Peccato perché se passavamo interno in quel momento lì forse la partita la va. Però devo dire che anche loro hanno fatto una buonissima partita, per cui penso che alla fine il risultato è giusto. Un pari contro la squadra più in forma del campionato non è da buttare? Beh, loro venivano su otto partite, hanno fatto le ultime sei vittorie consecutive. È una squadra che poi ha dimostrato che gioca e lascia giocare. Ripeto, fra il primo e il secondo tempo, il primo tempo meglio loro, il secondo molto meglio noi, e alla fine è uscito il pareggio che sia il risultato giusto. Paterno comunque condizionato alle assenze, soprattutto di Stefano. Ma non solo di Stefano, perché noi non dimentichiamo che stiamo giocando senza Albertazzi da un mese e mezzo, senza Celle da un mese e mezzo. Poi giovedì purtroppo Nino di Stefano ha avuto questa distorsione al ginocchio. I tempi del recupero? Beh, in settimana dovrebbe fare l'esame. Penso che sia solo una piccola distorsione che però gli ha impiedito di stare in campo oggi. Questo accelererà le vostre operazioni di mercato? Si parla, insomma lo sanno tutti, insistentemente di Luca De Meis. Noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma non dipende da noi, noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Noi al più presto dobbiamo sapere definire la situazione, se la cosa si può definire, per carità, ben venga, altrimenti dobbiamo andare su un altro, perché noi in quel reparto lì siamo un po' deficitari. Altre operazioni di mercato a centrocampo per esempio? No, non credo perché rimaniamo in questa maniera, perché poi con il rientro di Albertazzi con Franchi che sta giocando in questa maniera qua, anche a centrocampo, perché noi lì siamo cinque persone, di Giovanni, i miei occhi della penna, Albertazzi e Franchi, quindi siamo abbastanza bene. Partirà qualcuno? Ma no, al di là del fatto di Mattia Maffettone che ha chiesto lui perché aveva poco spazio, e di Severoni non credo che partirà nessun altro. Poi, come si dice, se dovesse capitare l'occasione giusta, è ovvio che l'entrata di un giocatore comporterebbe l'uscita di un altro, però in questo momento l'unico giocatore che penso che noi prenderemo è un difensore. Forse partirà Dario Celli? No, perché noi Dario Celli è un giocatore, è un valore aggiunto, noi lo stiamo aspettando, perché? Perché è un uomo spogliatoio, uno che dà i consigli giusti, fa crescere i ragazzi, quindi grande esperienza, grande capacità di lettura, per cui noi è una situazione che ci vogliamo tenere in calda anche con lui. Con oggi si è concluso il giro nell'andata, che valutazione diamo a queste 17 partite? Beh, positivo, perché noi abbiamo fatto 30 punti, che non sono pochi, poi se gli altri ne fanno di più, insomma. Noi stiamo, diciamo, rispettando quello che erano i piani, è ovvio che sulle nostre situazioni negative, noi quando non abbiamo avuto la sconfitta il Giuliano è stato bravo ad approfittarne, e non siamo stati bravi né noi né chi ci sta dietro ad approfittare nei passi falsi che ha fatto il Giuliano, perché anche loro hanno fatto dei passi falsi, per cui anche come oggi sono usciti tutti i pareggi, ci mi pare i risultati, per cui oggi era importantissimo riuscire a fare i tre punti. Però non fa niente, la squadra secondo me mi è piaciuta molto, e ci dobbiamo preparare a questo scontro diretto, dove secondo me se noi siamo bravi e approcciamo bene la partita potremo riaprire il campionato. E appunto, oltre al Giuliano, a chi potrebbe ambire, e al paterno, ambire alla vittoria del campionato? Ci sono almeno sei o sette squadre fortissime, per cui il campionato molto equilibrato, Spoltore, Angolana, Capistrello, Torrese, Sambuceto, Martinsicuro, cioè tanta carne, come si dice, al fuoco, però poi sarà sempre una che vincerà, e vincerà con la squadra che rimarrà continua nel rendimento, costante, che perde poche partite, e magari le vince quando non le devi vincere. Poi, ripeto, come ho detto prima, gli episodi ti fanno vincere o perdere la partita. Noi oggi due autogolle ci sono costati punti, di fatto, perché il primo gol è stato Gli Abboni, il secondo gol l'ha fatto autogolle. Più di qualche responsabilità, anche l'ottimo cattafesta, che oggi è tanto ottimo. Beh, diciamo, ha fatto benino in altre situazioni, lì molto probabilmente ha valutato male la situazione, però siccome sta facendo un buon campionato, è ovvio che quando sbaglia il portiere viene messo sempre in risalto, perché sbaglia il portiere e magari ci possono far gol, però poi abbiamo avuto due o tre situazioni davanti per poter far gol e chiudere la partita, non l'abbiamo fatto, non è che andiamo a imputare adesso agli attaccanti o centrocampisti che non hanno fatto gol. Mister Di Fabio, un match da due volti. Sì, è vero, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove non abbiamo concesso quasi niente, all'avvel paterno, noi oltre al gol siamo resi più ricolosi in un altro paio di occasioni. Secondo tempo loro sono ripartiti più forti di noi, ci hanno fatto questo 1-2, però diciamo che siamo stati, sono contentissimi della prestazione della mia squadra perché siamo stati bravi in un momento di difficoltà di rimetterci a posto, di non perdere la testa e di ricominciare e poi a giocare, alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo ottenuto questo punto, questa parità che penso che sia il risultato più giusto per questa partita. Siete la squadra in forma del campionato ormai da parecchio tempo, quanto c'è di Fabio in questo ennesimo miracolo che si sta consumando? No, noi lavoriamo, purtroppo o per fortuna la società mette a disposizione un organico normale, quindi con tanti ragazzotti che dobbiamo farli crescere, dobbiamo farli lavorare, questi mi seguono, mi vengono dietro, quindi stanno facendo delle cose incredibili e io personalmente sono felicissimo perché non ce l'aspettavamo inizio campionato, adesso stiamo in una posizione di classifica invidiabilissima, ma di quello che dico sempre ai ragazzi è di non guardarla, di continuare solo ed esclusivamente a giocare e a pensare di fare le prestazioni lasciando perdere il risultato e la classifica. Cosa hai imparato dalla scorsa stagione? La scorsa stagione anche lì i nostri obiettivi ogni anno erano quelli della salvezza, poi man mano ci siamo trovati in quella posizione e l'abbiamo tenuta fino alla fine, tornando indietro perché poi pensi cos'è che avresti cambiato nelle cose che hai fatto, sicuramente lo scontro diretto da loro dove abbiamo preso tre gol che sono andato per vincere la partita facendola, forse considerando le condizioni del campo, meno se mi accontentavo di qualcosa di meno, forse a quest'ora avremmo vinto il campionato. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del notiziario la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antenna 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tg. Ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica la perturbazione atlantica che ci ha attraversato nella giornata di martedì lascerà ancora segni di instabilità e nella giornata di mercoledì giungerà una massa d'aria più fredda in quota di origine polare marittima che farà nevicare anche sulle nostre montagne. Tornerà dunque la neve dopo l'irruzione d'aria artica avuta nello scorso fine settimana anche in montagna. E forse in questo fine settimana possiamo notarlo dalla tendenza meteo potrebbero arrivare masse d'aria di origine artica e di nuovo nevicherebbe fino a quote medio-basse sulla nostra regione Abruzzo tra domenica e lunedì della settimana che viene. Ne torneremo sicuramente a parlare data la distanza di tempo da quest'ultima tendenza. Invece nella previsione meteo per mercoledì vedete ancora nuvolosità associata a rovesci di pioggia di debone e di moderata intensità, i mari col moto ondoso mosso, invece le temperature massime subiranno una lieve diminuzione. Le temperature minime saranno in netta diminuzione, ci saranno anche gelate al primo mattino, diminuzione che si verificherà sulle nostre zone interne, mentre sarà meno marcata e quindi non temperature al di sotto dello zero lungo la fascia costiera. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci! Grazie! 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 Grazie!